Si trova appiantonato in ospedale e poi andrà agli arresti domiciliari con l'accusa di duplice tentato omicidio il 79enne Mariano Impellizzeri originario di Alcamo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'uomo avrebbe accoltellato lo stomaco con un coltello lungo 15 centimetri. Un anziano di 89 anni e la figlia di 57 subito trasportati in ospedale dove sono ricoverati in prognosi riservata. L'anziano è in serio pericolo di vita, la figlia dovrebbe invece cavarsi l'aggressione è avvenuta in contrada, cava bufalata poco distante da Marsala. Ma quale sarebbe stata la causa scatenante? Secondo quanto accertato sarebbe un misto di credulità popolare, ignoranza e disperazione. Impellizzeri addebiterebbe le sfortune, i problemi di salute della moglie malata, vecchie fatture che un appartenente alla famiglia delle due vittime gli avrebbero fatto alcune anni fa. Insomma una storia per chi ci crede di malocchio e influenza negative. Impellizzeri dopo l'accoltellamento ha tentato la fuga con la sua autovettura andando però a finire contro un palo. È stato così raggiunto da un nipota dell'anziano ferito che è riuscito a introdursi nell'abitacolo e a spegnere l'autovettura. L'uomo ha anche evitato di essere colpito da un pallino in acciaio sparato da Impellizzeri con una pistola a gas che teneva nascosta dentro l'auto. Alla fine il 79enne è stato arrestato e preso in consegna dai carabinieri.